E' una brutta bestia. Non è come andare a pesca di sardine o di merluzzi. Questo è uno squalo che ti si mangia vivo, ti addenta, ti dà una strezzata e sei fatto. E va ucciso alla svelta per non far scappare i turisti prima che li abbiate spennati ben penino. Ma non sarà facile per niente. E la mia pelle vale molto più di 3.000 dollari, capo. Io per 3.000 dollari ve lo trovo, ma per prenderle e ammazzarlo ne voglio 10. La decisione spetta a voi. Se volete fare affari quest'estate, alzate il premio. Oppure fate gli spilorci e passate l'inverno a piangere.